Venezia, ci sono danni anche alla Basilica di San Marco dove si è allagata la cripta. Stamattina in città ci sarà il capo della protezione civile Angelo Borrelli. Il governatore del Veneto, Zaglia, parla di scenario di devastazione totale, apocalittica. L'80% della città è sott'acqua, ci sono danni inimmaginabili. Quasi un metro e mezzo a San Marco, l'isola di Pellestrina è sott'acqua per il 100%. Allora, Ministro D'Inca, la sollecitazione del sindaco è anche per il Mose, no? Quest'opera faraonica mi pare cominciata nel 2001, 6 miliardi già spesi ma ancora non funziona. Ma che si può fare? Innanzitutto io ho parlato con il sindaco Brugnaro alle 8 di questa mattina. Io posso ringraziare il sindaco per il lavoro che sta svolgendo in città, tutta l'amministrazione, la protezione civile. Ho parlato con Angelo Borrelli pochi minuti fa, che era in viaggio per andare a visitare i luoghi del disastro. Siamo tutti quanti nel governo, nella maggioranza vicina alla città di Venezia. Io ho parlato pochi giorni fa con la Paola De Micheli, Ministro per le Infrastrutture. Al giorno arriverà la nomina del nuovo commissario per il Mose. Il governo vuole terminare quest'opera che si discute sempre di questi famosi 5 miliardi di spesi. Tra l'altro è un'opera che è pronta al 96-97%. Io l'ho visitata più e più volte. È un'opera fondamentale per salvare Venezia. Occorre togliere qualsiasi tipo di alibi sul funzionamento o meno, occorre finirla. Tra l'altro è un'opera su quale... Ma c'è una data, scusi Ministro, c'è una data, cioè lei può ipotizzare una data in cui sarà operativo in Mose? Il prima possibile, non c'è una data. Ci deve essere il prima possibile, perché è un'opera che va avanti da 20 anni, sottoposta tra l'altro ad una situazione scandalosa per il Veneto, oggi che si è abbastanza spenta. Un fenomeno di corruzione immenso che ha visto indagato e poi anche arrestato Giancarlo Galan, ex Presidente del Veneto. E per questo motivo ancora di più occorre dare un segnale velocissimo. E questo governo lo vuole dare. Ripeto ancora una volta, il Presidente Conte sta, diciamo, verificando la situazione in questi minuti e c'è tutta la vicinanza da parte del nostro governo e risponderemo immediatamente alle esigenze di questa città che è un simbolo per l'Italia nel mondo. È il simbolo dell'Italia, come Roma, come Firenze, come Milano, come Napoli. Dobbiamo essere in grado subito di reagire, che tra l'altro però giustamente, lo metto il Sindaco, deriva da un sudiscaldamento globale che è una problematica enorme che si rivolgerà in tutta la parte costiera del nostro Paese. Certo, attenzione, certi fenomeni, io l'ho visto anche l'anno scorso con la tempesta Vaia nel bellunese, da dove io vengo, non è normale come l'anno scorso avere 700 mm di acqua 70 cm in 4 giorni e 20 a 200 all'ora nel nostro Paese o altre maree di questo tipo. Occorre intervenire, il problema ambientale è uno dei problemi principali del nostro mondo. Ce lo chiedono anche le nuove generazioni, ce lo chiedono ogni fine venerdì del mese. Bisogna rispondere in maniera immediata. Senta, poco fa Salvini ha detto che il Mose è pronto ad entrare in azione, ma servono 100 milioni per la manutenzione annua. Andrò al Senato per un emendamento alla manovra per trovare questi soldi. Vi sono già dei fondi stanziati. Questo Paese ha bisogno di spendere i soldi che già ci sono in maniera molto veloce. Se per Salvini era una priorità il Mose, potevamo metterlo nel passato governo come priorità, cosa che non è stata fatta. Noi volevamo assolutamente terminarlo, lo vogliamo terminare anche oggi. Però è chiaro, bisogna che questo Paese si metta in testa, che le opere vanno terminate, quelle che oggi sono al centro della tensione, e opere come il Mose sono tra l'altro anche un simbolo del voler veramente effettuare un cambiamento nel nostro Paese. Questo governo ce la metterà tutta per poter dimostrare ai cittadini che le cose possono essere fatte in maniera molto veloce. E tra l'altro dico una cosa in più anche, parlando con Borrelli, parlando con il Sindaco, abbiamo visto che ci sono commercianti che hanno danni, persone che hanno avuto enormi danni. Il Sindaco ha chiesto di fare un elenco di tutti i danni. C'è un elenco completo che deve essere fatto e cercheremo di operare immediatamente per aiutare commercianti e aziende che hanno subito danni, e io ripeto ancora una volta, in una città splendida che è il simbolo del nostro Paese. No, ma su questo credo che nessuno possa dire il contrario. Eh lo so, però non bisogna ricordare, perché sai, è anche vero che quando capitano eventi del genere ci ricordiamo della bellezza del nostro Paese. Poi capita l'evento, passa, si asciuga Venezia, rimane il sale, però all'interno dei mosaici di San Marco o da altre parti si rovinano, ci dimentichiamo. Tra l'altro dico subito, il Ministro Franceschini ha immediatamente mandato i tecnici del MIBAC, del Ministero dei Beni Culturali, per fare le opportune verifiche. Siamo sul pezzo. Senta, allora parliamo subito di Arcelor Mittal. Ieri i legali del colosso siderurgico hanno depositato l'atto di citazione di recesso dal contratto di affitto al Tribunale di Milano. Insomma, tira dritto Mittal. La questione, come le sa perfettamente, sta creando delle fibrillazioni del Governo. Nel Movimento 5 Stelle c'è una parte consistente che non vuole sentire parlare di cosa? Di scudo penale, che è il motivo, uno dei motivi per cui Arcelor Mittal ha detto che vuole appunto rescindere il contratto. C'è un gruppo di parlamentari del suo Movimento Capitanati dalla Lezzi che dicono non vogliamo sentire parlare di scudo penale. Lei sta facendo da mediatore, da negoziatore. Qual è la posizione ufficiale del Movimento? Intanto chiaremo una cosa. Quando il Presidente Conte ha incontrato Mittal, padre e figlio, ha messo sul tavolo subito. Ha detto, ma il problema è lo scudo? È questa questione sull'immunità penale per i ratti ambientali? E loro hanno detto di no. Il problema principale è che non vogliono più produrre a Taranto, vogliono rimanere su 4 milioni di tonnellate prodotte e vogliono diminuire la forza lavoro oggi impiegata dalle 10.500 unità passare a 5.000 e meno. Quindi dimezzarla. Questo è il vero problema. Poi possiamo discutere sul giornale, ho visto anche gli articoli di oggi, anche io rappresento ieri mattina l'incontro che abbiamo fatto con i nostri parlamentari, con Patonelli, con il Presidente Conte, con Luigi Di Maio. Noi stiamo cercandone, vogliamo risolvere il problema ILVA-Taranto, punto. E lì c'è un problema ambientale, sanitario, di lavoro, c'è un problema internazionale sull'acciaio, ci sono queste grandi multinazionali che vengono nel nostro paese. Lì occorre avere assolutamente un piano Taranto, che è l'idea che sta mettendo in campo Giuseppe Conte, su cui noi come Movimento diamo la massima fiducia e vogliamo andare avanti. Poi è chiaro, bisogna trovare la modalità anche in questo momento su Milano per effettuare il cautelativo in una certa maniera, poter difendersi anche da questa volontà di recessione che ha. È una causa che potrebbe essere la causa del secolo per il nostro paese. E noi la affronteremo in maniera molto unita. È chiaro che prima vengono... Ma chi dice togliamo l'alibi a Mittal? Rintroduciamo quest'immunità penale? Se vuoi rinizio col discorso iniziale. No, io l'ho capito, ma io però faccio il mio mestiere, lei giustamente fa quello di ministro. Cioè, uno dice, ripetiamole, vediamo se al tavolo può evitare riprodisce quelle parole. Ma se lo hanno già detto. Se hanno già detto che non è il problema dello scudo penale. Se invece vogliono in qualche maniera andarsi a livello del nostro paese. Hanno promesso investimenti. Hanno fatto un piano industriale. Però hanno saliato Italia Viva e il PD, hanno presentato un emendamento per reintrodurre, soprattutto Italia Viva, Renzi, per reintrodurre lo scudo penale. Io credo che ci sia la perfetta comprensione in questo momento. Poi la dialettica politica vuole che in certi momenti alcune forze politiche fanno alcune proposte, che è la massima libertà. Ma ripeto, dobbiamo essere un sistema paese. In questo momento qua l'errore più grande è dividerci. Invece la cosa più importante sarebbe, maggioranza ed opposizione, prendere questo problema e risolverlo. Vi sono alcuni nodi nel nostro paese. All'Italia, al nodo dell'ILBA. Vi sono alcune cose principali che vanno risolte perché è questione di un sistema paese. Poi chi vince, vince, poi le prossime elezioni non è un problema, che per me le prossime elezioni saranno tra tre anni e mezzo, nel 2023. Fine legislatura. Fine legislatura sempre. Ma oggi va risolto. E credo che faremo il bene al nostro paese a condividere alcuni progetti insieme all'interno del Parlamento e con questo governo che sarà appunto capofila, con l'impegno, e io ho la massima fiducia, in Giuseppe Conte. Senta, domani consiglio dei ministri sul cantiere Taranto, mettiamola così, come ha detto il Premier Conte, no? invitando tutti i ministri a portare delle proposte, delle idee, delle iniziative. Lei ha un'idea, domani porterà in Consiglio dei ministri un'idea precisa sulla questione Taranto? Io credo che il piano Taranto sia l'idea principale, ma già l'idea di chiedere ai ministri di coinvolgere, di condividere, di mettere al centro Taranto, sia già questa una grandissima idea e sia un'opportunità per poter dare anche nel sud Italia una visione diversa e anche il fatto di non sentirsi più isolati o essere marginali. Ripeto, Taranto ha bisogno di essere aiutata in questo momento e questo governo ha tutta l'intenzione, attraverso i suoi parlamentari, attraverso il Movimento 5 Stelle, di mettere al centro le problematiche. Nel momento in cui è l'orbital va via definitivamente, al di là della causa di quello che succederà dopo. C'è un piano B, il governo ce l'ha. Io dico semplicemente questo. È chiaro che poi alla fine bisogna sempre una struttura commissariale che può avere in mano la gestione di Ilva. Io direi intanto di far rispettare il piano industriale che è appena stato firmato ad Asselo al Mittal. Attenzione, c'è stata una vendita, vi è stata al suo interno delle promesse di investimento di miliardi di euro, queste vanno rispettate. Il piano B arriverà dopo, ma il piano A è quello di poter risolvere i problemi, di poter dare al nostro paese un'aria caldo, un'aria freddo, abbiamo da poter mantenere per le nostre imprese, nella parte dell'automobile, nella parte della canteristica navale. Vi sono dei processi importanti. Ripeto, sempre, fino ad oggi giorno, è stato in qualche maniera lasciato il suo destino a Taranto. Questo governo vuole riprendere in mano Taranto, vuole dargli un futuro diverso, vuole far sì che vi sia un passaggio anche per il Sud che diventa un fenomeno di nuovo umanesimo, che è quello che spesso e volentieri Giuseppe Conte ha detto in suoi tanti discorsi. Senta, nazionalizzazione al di là adesso dell'Europa, sì o no, dal suo punto di vista? Se ci dovesse arrivare a questa... Vi sono delle regole europee, tra l'altro anche. Io, tra l'altro, credo che in qualche maniera, io lo ripeto quella una volta, attenzione, il sistema paese vuol dire che c'è anche un confronto diretto attraverso la sua parte di imprese, la sua parte industriale, che in qualche maniera lì sì ci vuole uno scudo paese. in qualche maniera in cui noi ci difendiamo per le nostre imprese, per le nostre aziende, per i nostri lavoratori. Ecco perché ho detto prima che in certi momenti occorre abbassare i toni e pensare al futuro del Paese. Altrimenti noi rischiamo quotidianamente di scontrarci, di favorire chi ci vuole divisi. Io faccio un appello a forze di maggioranza, di opposizione, una riflessione concreta, una verifica concreta e poi un piano taranto. E poi ricordiamoci sempre che questa l'Italia è la settima potenza economica del mondo. Abbiamo 500 miliardi di esportazioni che noi facciamo ogni anno. Stiamo raggiungendo questa cifra che è incredibile. Siamo il secondo Paese a manufatturire dopo la Germania in Europa. Abbiamo la forza, la creatività. Il problema nostro è che siamo spesso e volentieri divisi. Ecco, la nostra forza deve essere che per una volta sul tema ILVA dobbiamo essere uniti. No, no, diciamo le sue parole sono quest'ultimo passaggio di buonsenso e assolutamente condivisibili. Poi la realtà della politica è anche un'altra. A proposito di questo, domani dopo il Consiglio Ministri... Quello è il racconto della politica spesso e volentieri. Quello è il racconto della politica. Eh, non è solo il racconto. Il racconto a volte si basa su fatti molto concretti. Ci sono tante persone che vogliono lavorare insieme in questo Paese. No, ma questo non lo metto in dubbio, Ministro. E sono quelle silenziose che fanno mandare avanti il Paese. Senta, a proposito di compattezza o meno, domani dopo il Consiglio Ministri credo ci sia un super vertice di maggioranza, 40 invitati, so che lei si è molto speso per questo. Ho letto che ha anche mandato le mail ai partecipanti e ho letto che lei ha detto diciamo la maggioranza è stabile ma la comunicazione è instabile. Ha detto questo. Che vuol dire? Sì, è quello che è la verità. Io addirittura no, ho dato soltanto una mail per l'incontro che faremo giovedì pomeriggio. Me li sono chiamati uno a uno. Perché alla fine dei conti credo che domani faremo questo incontro su una manovra. Renzi non viene a Osano, l'ha ribadito. Insomma, io lascio... Ha detto oggi verranno gli esponenti d'Italia Viva ma io non... Lascio Matteo. Perché il Movimento 5 Stelle non mi vuole, l'ha detto dall'inizio. Io lascio Matteo fare le scelte, lo vedo il Senato, lo saluto volentieri, ci mancherebbe altro. Quello che secondo me invece è corretto è darci un metodo. Affronteremo una legge di bilancio, io lo ripeto ogni volta, questo è un governo che per chi ha in conversione, cioè il passaggio da un decreto legge in legge, sei decreti legge in questo momento, da qui che oggi è l'11... Scusatemi, oggi è il 13 novembre. Oggi a fine dicembre, quindi abbiamo meno, abbiamo un po' più di 45 giorni, abbiamo sei decreti legge in conversione e abbiamo una legge di bilancio. Cosa che non era mai successa in nessun governo. Questo perché? Perché è un governo che sta lavorando, che fa decreti legge. C'è un decreto clima, un decreto superiore della scuola, un decreto sisma, vi è un decreto fiscale, vi è una legge di bilancio, stiamo chiudendo la cyber security per il nostro paese, è un tema importantissimo per la sicurezza dei nostri dati, cosa che è la miniera d'oro del prossimo futuro. Tutto questo stiamo affrontandolo in pochissimi giorni. Si affronta soltanto se vi è, diciamo, una maggioranza stabile. Ecco perché io dico, vi è una maggioranza stabile, si sta creando un'amalgama forte all'interno dei gruppi parlamentari, si lavora bene, c'è gente che ieri sera ha chiuso sul decreto sisma a lunedì notte per poter lavorare, per poter presentare gli emendamenti fatti bene in maggioranza, quello che manca forse è una comunicazione che in qualche maniera è instabile. Ora forse, se dovessi fare un appello un po' a tutti, direi che, direi, insomma, che ci vuole comunicazione stabile e un governo stabile e un Parlamento stabile per fare bene il nostro Paese. Vado a memoria con sfumature diverse, gli industriali, i Confindustri in particolare, i sindacati, la Corte dei Conti, chi rappresenta le partite IVA, sono tutti scontenti della legge di bilancio. Ma è così penalizzante per tutti o anche lì non sapete comunicare quello che è ovviamente in divenire, perché c'è tutto lì del parlamentare ancora? Quello che è straordinario è che è la manovra che taglia maggiormente le tasse nel nostro Paese dagli ultimi, penso, dieci anni, soltanto pensare che ad agosto ci domandavamo se riuscivamo o meno a trovare i 23 miliardi per le clausole di salvaguardia. Ebbene, se non c'era questo governo, noi avremmo avuto un aumento delle tasse pari a 540 euro per famiglia, una cosa inimmaginabile. Oggi invece non avremo questo aumento delle tasse che voleva dire passare dell'IVA dal 22 al 25% e dal 10 al 13%, cosa che avrebbe, diciamo, tra patroleare i consumi nel nostro Paese e invece siamo riusciti a trovare quei soldi. Faremo una riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori e per le imprese di 3 miliardi di euro e affronteremo, abbiamo 600 milioni di euro per le nostre famiglie in più, insomma, una serie di passaggi importantissimi. Dopodiché ci sono fermati sulla gestione di alcuni passaggi, va bene, che capisco essere di forte appeal dal punto di vista pubblico, cercheremo di poterli migliorare nei prossimi passaggi in Parlamento. Questa è la volontà del Governo. Però non dimentichiamoci, se non c'era questo Governo, nel 2020, le famiglie avrebbero pagato 540 euro in più di IVA. Io non voglio nessun tipo di ringraziamento, però facciamo anche un'operazione verità. un'operazione verità. È il più grande taglio di tasse del nostro Paese e stiamo già lavorando anche per le clausole 2021, le clausole del 2022. Stiamo piantando pallette importanti per la crescita del nostro Paese. Quindi lei non crede... Abbiate un pizzico, secondo me, sai cosa manca anche? Ci vuole un po' di fiducia anche. Io ripeto, se vuoi fare la differenza, devi avere un Paese stabile. Quando eravamo a gennaio eravamo a 350 punti di spread, oggi siamo intorno ai 140 punti di spread. Il nostro Paese deve avere 80 punti di spread, 90 punti di spread. Ogni anno abbiamo risparmiato in questa maniera... La conflittualità che poi è stata la crisi del Conte 1 era dovuta non solo a Salvini ma anche a Di Maio, dei due contendenti. Quando stavamo con Salvini lo spread era le stelle e i tassi di interesse esistono. Quindi passare da pagare 77 miliardi di tassi di interesse all'anno o pagarne 50 e forse qualcosa in meno vuol dire fare la differenza ogni anno per poter fare gli investimenti necessari nel nostro Paese. Mi dice un'ultima cosa, lei non crede alle voci PD che sarebbe tentato di staccare la spira addirittura prima delle regionali di Emilia Romagna del 26 gennaio. Si moltiplicano queste voci è solo gossip giornalistico? Insomma, liquidarlo così forse è un po' forte o no? Mi permetto di dire? Fa sorridere secondo me e pensare che questo governo possa terminare diciamo il suo lavoro in tempo così breve secondo me invece iniziamo a ragionare lo dico tutti lo dico me per primi questo governo dura fino al 2023 mettiamocelo in testa tutti lavoreremo bene lavoreremo in maniera stabile per il bene del Paese e il ministro con rapporti con il Parlamento visto che è anche un ministro dei rapporti umani in Parlamento tra le altre cose cercherà di far sì che si crea ancora di più questa maglia ma che io vedo crescere ogni giorno che forse in televisione passa un po' di meno sui giornali passa un po' di meno ma che io vedo presente sono convinto che possa essere una grande partecipazione per il nostro Paese noi registriamo qui come dire la bontà della sua testimonianza assolutamente senza pregiudizi ne sono assolutamente convinto tra l'altro io ripeto c'è un primo ministro come Giuseppe Conte che faremo fatica a trovare in futuro una persona così capace di dare dei passaggi ripetuto anche stamattina di Maio due battute finali è tardissimo intanto una notizia che la Commissione Finanze della Camera ha giudicato inammissibili gli emendamenti presentati lo dicevamo prima da Italia Viva e anche da Forza Italia per reintrodurre lo scudo penale per l'exilva la motivazione sarebbe l'estranità della materia e questo siamo certi non bisogna essere maghi creerà nuove fibrillazioni ma non è vero è un tecnicismo è un tecnicismo mi dice solo un'ultima cosa Giorgetti numero due della Lega dice facciamo una riforma a una legge elettorale nuova il più possibile condivisa mettendo al tavolo tutte le parti Renzi ha detto benissimo ci sto è ipotizzabile che questo accadrà o no? Nelle mie deleghe ci sono le riforme noi abbiamo promesso di iniziare un percorso sull'egge elettorale lo iniziamo oggi pomeriggio alle 15 con i gruppi di maggioranza se Giorgetti vorrà presentare le sue idee sarò ben felice di poterle accogliere una persona molto intelligente e capace una risorsa per il nostro paese però è chiaro che bisogna sempre utilizzare un metodo che sembra strano e un po' particolare sedersi a un tavolo mettersi le idee e torna a un tavolo tavoli come le sa in questo paese se ne se ne aprono tutti i giorni secondo me non c'è un approvo tavoli in cui si decide qualcosa anche insieme in cui si mantiene la parola data in cui si cerca un percorso io ripeto secondo me la legge elettorale è un passaggio importante per il nostro paese sinceramente mi sembra che oggi il tema principale è Venezia d'accordo quindi sono alcune cose che devono diciamo percorrere una propria strada il nostro paese bisogna di mettersi in sicurezza sotto il profilo idrogeologico e di pensare alle future generazioni la legge elettorale è un passaggio obbligatorio per dare dopo la riduzione del numero dei parlamentari si può fare nella maniera corretta nei tempi corretti ripeto con una maggioranza che sarà sicuramente stabile nei prossimi anni grazie ministro Dincà per tutte le cose che ci ha raccontato e ci ha detto grazie a voi e anche per la passione e la volontà che ci mette pubblicità mentre vediamo un attimo in diretta da Venezia l'attesa drammatica per il nuovo picco della marea tra poco insomma secondo le previsioni eccola qui la diretta vi dicevamo la situazione è molto complicata ci vediamo tra qualche minuto dopo la pubblicità grazie a tutti